Ciao ragazzi, eccoci qui, nuovo allenamento, allenamento per l'estate, l'estate 2020 e andiamo a fare un bellissimo tabata, andiamo a fare un tabata prevalentemente gag, gambe, addome e glutei, ma non mancano delle difficoltà anche per le braccia, quindi volto ed efficace, quindi avremo 20 minuti di lavoro, 10 secondi di recupero, Ok, quindi sarà veloce, efficace, da ripetere una volta o tre volte come consiglieremo poi alla fine della lezione, come sempre i 10 secondi di recupero servono per cambiare la posizione, quindi è tutto molto veloce, è tutto molto attivo, è tutto molto efficace, quindi preparatevi tutto, solo una cosa, il tappetino, basta, non c'è nient'altro da preparare, tutto lì, il resto grinta, energia, forza, solo per numero di uno, Bene, siamo pronti, primo esercizio, basso col crunch, quindi ispira al centro, fuori l'aria, ispira al centro e fuori l'aria, pronti, vai! Inspira, espira, porta il vomito al ginocchio, dai 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 via inspira, espira allunga non ti dovresti andare a colpire qualcosa dietro forza e quindi poi cambio gamba recupera diamo subito gamba sinistra forza forza inspira e spira cambio metti giù glutei bridge tiro solo su glutei e ritorno pronti? via inspira, espira cura sempre la respirazione molto bene recupero planca quindi posizioni avambraccio mani in appoggio forza da qua allungo e rimango 20 secondi respira spira spira i glutei cambio ci tagliamo sul lato sinistro side left rise tiriamo su la gamba sinistra spira dritta dritta piede al martello via benissimo benissimo esercito esercito vai Ok? Qua, tre, e via! Forza! E via! Da qua divarico leggermente un wall sit. Rimane in posizione, scuote, metriometria, venti secondi eh! Tendiremo anche il braccio se vuoi eh! Guarda avanti, spalle aperte. Tira, tira, tira al quadricipile. Ok, push up! Da qui scendo o sulle ginocchia o marini. Pronti? Reas! Forza! E dai! Bravissimi! Questo è il workout, adesso da ripetere, è breve, veloce e intenso. Da ripetere in tre volte. Se avete proprio poco poco poco, una volta, vabbè! Due! Due barra tre! Forza che siate posti! Buone vacanze! Ciao ciao! Buon allenamento!